Buongiorno cantante! Buongiorno cantanti, oggi non vi farò una lezione, questa sarà soltanto una comunicazione. Io fra poco andrò in un luogo che è immerso nella natura e vi accompagnerò con me in questo luogo dove ci sono boschi, dove ci sono fiumi e dove canteremo e respireremo insieme. Quindi vi porterò in brevi istanti, in brevi video, a conoscere di nuovo la nostra essenza come esseri umani, come esseri umani che stanno nella natura e che vivono il canto come una parte di un tutto. Non possiamo pensare al nostro corpo come una macchina, noi sì, certamente conosciamo il nostro corpo perché dobbiamo cantare e lo dobbiamo utilizzare in una certa maniera, ma dobbiamo anche cercare di ricordare che tutto quello che riguarda il canto riguarda una unità unica, un qualche cosa che è tutto insieme, che si muove insieme, con un unico cuore che pulsa, quindi noi dobbiamo ritornare a quell'unicità, a quella completezza e solo nella natura lo possiamo fare. Quindi vi voglio portare con me in questa avventura e vedremo che cosa scopriremo, d'accordo? A settembre ricomincerò con le mie lezioni, con le lezioni sulle scale, sui fraseggi, sui ritmi, sulla tecnica. Vi inviterò di nuovo a contattarmi per le lezioni online o in presenza perché comunque le lezioni sono fondamentali perché l'insegnante vi deve ascoltare. Non si può soltanto pensare di imparare sentendo quello che fa un'altra persona, bisogna essere ascoltati per imparare ad ascoltarsi. Quindi vi inviterò nuovamente a scrivermi a infochiocciolelnavilla.it per poter pensare di iniziare un percorso insieme. E a settembre quindi ci saranno di nuovo i video sul ritmo, sulle scale, tutto quello che abbiamo iniziato a fare sulla dizione italiana per cantanti, qui i video in inglese e anche ci sarà finalmente l'estrazione del giveaway per i mille iscritti. Vi ringrazio tantissimo per essere così tanti e anche approfitto di questa situazione per ringraziare il millesimo iscritto che è Johannes Ivan che ho ringraziato anche nel video in inglese. Non so come si pronuncia il suo nome quindi l'ho invitato a mandarmi un audio nel quale mi spiega come si pronuncia il suo nome. Vi invito a mettermi un like, a iscrivervi al mio canale se non siete iscritti e a sostenere il mio progetto. Lo potete fare sia attraverso Paypal che Patreon. Quindi io vi aspetto, scrivetemi commenti e buon canto a tutti. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!